Oggi ci occupiamo di tre rapine addebitate ai componenti della banda della Uno Bianca. La rapina alla cassa di risparmio in via Toscana a Bologna del 27 ottobre 1993, la rapina alla cassa di risparmio di Ravenna di via Barelli e la rapina alla banca cooperativa in via Bainsizza con il duplice tentato omicidio di Santini e Convertino. Iniziamo con la rapina alla Carisbo di via Toscana. Sentiamo la deposizione del direttore della banca e di un cliente che si trovò ad assistere alla rapina. Prego buongiorno, si è comodo? Si chiama? Tuccelli Vittorio. Pubblico Ministero le vorrà delle domande. Signor Tuccelli buongiorno. E lei nell'ottobre del 93 era il direttore dell'agenzia della cassa di risparmio di Bologna di via Toscana? Sì. Il 27 ottobre 1993 lei si recò al lavoro? Sì. Vuoi dire alla corte che cosa successe, per favore? Arrivai davanti alla filiale della banca. Verso che ora? Attorno alle 8 circa. Mi si avvicinò alla macchina mentre ancora era all'interno della macchina un individuo che mostrandomi una pistola mi invitò ad uscire dalla macchina e ad andare verso la filiale. Questo individuo quanto era alto più o meno? Era un po' più alto di me. Io sono 1,75 m. Lei allora parlò di questo rapinatore come alto circa 1,80 m? Difatti ho detto un po' più alto di me, sono 1,75 m. La corporatura di Costù se la ricorda? Super giù come me, un po' più un po' più robusto. Lo definì di corporatura robusta ed atletica? Sto parlando di un verbale di assunzione di informazioni? Robusta più di me, atletica, non mi ricordo la verdetta atletica anche perché non so. Comunque così venne verbalizzato. Allora questa verbalizzazione le ricorda le parole o comunque il significato che lei voleva dare alle stesse all'epoca? Sì, parlò di una persona alta e robusta. Di una persona più alta di me e più robusta di me, questo senza dubbio. I capelli li ricorda? Aveva, mi è sembrato un parruccone. Un parruccone. Parlò questa persona, le disse qualcosa? Mi disse di entrare in banca. Poi descriveremo bene l'azione. Adesso, visto che è stato introdotto, rimaniamo sulla descrizione delle caratteristiche somatiche e fisiche di costui, dal modo di parlare, lei individuò un accento, un dialetto? No. Lei sempre nel verbale che le ho citato disse accento sicuramente meridionale? No, io non ricordo di aver detto, o d'anzi che l'abbia detto perché ero sotto shock, ma non ricordo di aver detto questo. Lo stesso giorno, cioè il 27 ottobre del 93, alle ore 9.40, quindi a calda. Ricorda, non si preoccupa, ricorda che cosa indossava il capo di abbigliamento? Aveva un soprabbido. Chiaro o scuro? Così adesso la moria dopo due anni, non ricordo se... Sembra di ricordare chiaro, però non... Sembra di ricordare chiaro e così infatti disse all'epoca. Senta, aveva occhiali questa persona? Sì, occhialoni scuri. Occhiali scuri. Ecco, adesso abbiamo descritto il rapinatore. Torniamo al primo momento, quando Costui la affronta. Che cosa le dice? Se la minaccia, come la minaccia? Ci racconti con calma tutto lo sviluppo dell'azione. Grazie. Avevo appena parcheggiato la macchina, mi si avvicinò allo sportello della macchina, mostrandomi una pistola e mi disse di uscire dalla macchina, di lasciare le chiavi all'interno della macchina sul tappetino. Dopo che uscì mi disse andiamo verso la filiale. Andammo, aprì la filiale e ci fermammo nel vano antistanda, l'ingresso, dove c'è il bancomat. Le mostrò un'arma? Sì, la mostrò quando... Che cosa le... Che arma le mostrò? Una pistola. Una pistola. Era una pistola a tamburo o semiautomatica? Cioè era simile a... Il tamburo è tipo quello che io non ho fatto militare, quindi non conosco le armi. Sì, tamburo intende quella del film western? No. No, non era tamburo. Non era tamburo. Va bene. Quindi rimaneste per un certo periodo tra le due porte? Sì, tra le due porte, nel vano dove è installato il bancomat. Nella bussola, come si chiama? No, al di fuori della bussola. Al di fuori della bussola. Cioè un vano antistanda dove è installato il bancomat. Perché rimaneste per qualche tempo in quella posizione? Perché aspettavo altri, mi ha detto, aspettiamo gli altri. Gli altri intendendo i miei colleghi? I miei colleghi. Arrivarono i suoi colleghi? No, arrivarono tre persone, uno di seguito all'altro, per levare al bancomat e le trattenne lì. Poi che cosa succede? Poi dopo mi fece entrare in filiale e invitandomi ad aprire la porta degli handicappati. Così io feci. A quel punto entrammo in banca e attraverso un walkie-talkie, presumo, chiamò un'altra persona, un suo complice. Un'altra persona. Mentre passava questo lasso di tempo, trascorreva questo lasso di tempo, ha detto che arrivava qualche cliente anche? Sono arrivate tre persone che si regavano al bancomat. Ecco, e queste persone vennero costrette a rimanere insieme a voi dal raffinatore? Sì, le trattenne lì. Le trattenne lì. Poi tramite un walkie-talkie chiamò qualcun altro. Esatto. Come si rivolse a costui? Mi sembra di ricordare che lo chiamassi Gennaro. Gennaro. E arrivò poi l'altro? Quando arrivò io ero già all'interno con tutti gli altri ed ero vicino alla cassaforte, nel bar della cassaforte. Per cui io l'altro l'ho visto di sfuggita di spalle. Esatto. Infatti allora indicò soltanto l'altezza più o meno, ricorda? Mi è sembrato che fosse più alto ancora, però eravamo distanti una decina di metri e l'ho visto di spalle. Dunque, dell'altro lei disse, sono in grado di dire solo che come altezza era simile al primo? Sì, per giù era un... Senta, venne asportato del venaro? Sì. Più o meno quanto? Se ben ricordo, intorno ai 20 milioni. Soldo più, soldo meno, non ricordo. Forse qualche soldo in più. Ci risultavano 30 milioni dall'informazione di reato. Non ricordo anche perché non sapevo esattamente cosa ci fosse in quel momento di cassaforte. Probabilmente dopo, con i controlli, è stata accertata una cifra più precisa. Senta, durante la rapina, ad un certo punto, scattò l'allarme volumetrico? Sì, scattò quello del vano banca, un matto che mi aveva fatto aprire. E si affacciò dentro e scattò subito. Come reagirono i malviventi? Disse il primo, disse il secondo, la cassetta, la cassetta, slappò il videoregistratore e lo portò via. I due poi, ad un certo punto, se ne andarono? Sì. E vide se andarono via a piedi o se salirono a bordo di un'autovettura? No, io li vedi uscire dalla filiale perché nel frattempo era scogliato il telefono della nostra sede e io risposi a telefono. Li vedi solo uscire dalla filiale. Non ho altre domande, la ringrazio. Sì, Presidente. Luca Moser, parte civile Buscaroli. Signor Toccelli, per cortesia, ricorda se mentre il primo rapinatore la minacciava le chiesero anche un documento d'identità? Sì. Comunicò i dati col walkie-talkie al rapinatore all'esterno? Ricordo solo che disse, è sposato, a famiglia, una cosa del genere. Però se disse anche nome e cognome, non lo ricordo. Grazie. Domande? Avvocato Piccolo, difesa Savio Alberto. Signor Toccelli, cortesemente, lei ha mai fatto degli identikit? Le sono state mai richieste di fare degli identikit sui rapinatori? No, non l'ho fatto. Mi fecero vedere delle foto in questura, dissi che non era in grado di riconoscere nessuno. Era in grado o sarebbe in grado di riconoscere? No, come ebbe in modo di dire allora era con questo parruccono, Chialoni Scuri, il bavaro del Alzato, per cui forse non era in grado di riconoscere se l'avessi avuto davanti. I soldi che vennero portati via, dove furono messi? Con quale modalità? In una borsa. Ci può dire qualche particolare su questa borsa? Era una borsa di colore scura, non mi ricordo se... Era già in possesso ai rapinatori? Come? Era già in possesso ai rapinatori? Era scura, marrone o nera adesso. Aveva una borsa colore nera, ha detto? Nera o marrone, non mi ricordo, era scura. Parli nel microfono. Senta, sull'accento che lei ha, su questa domanda che lei è già stata fatta, voleva che sia più preciso. Io non ricordo di aver detto che era un accento meridionale, perché non lo so, non sono un profondo conoscitore degli accenti, per cui se fosse stato un napoletano forse l'avrei individuato, ma se fosse un marchigiano non sarei in grado di dire un accento marchigiano, ecco. Siccome lei ha detto, l'accento sicuramente meridionale, cioè poteva essere artefatto o poteva... Io, ripeto, non ricordo di aver detto sicuramente meridionale. Laddove l'avessi detto, non sono in grado di dire se era artefatto o era il suo accento naturale. Però ribadisco, non ricordo di averlo detto. La ringrazio. Prego. Ci sono domande? Nessun'altra? Grazie, può andare. Buongiorno. Senza portarsi il microfono. Lei si chiama, signora? Bandiera Elisabetta. Il pubblico ministero le porrà delle domande. Pongo lentamente, così prende fiatto. Grazie. Allora, signora, lei la mattina del 27 ottobre 1993 si recò in banca presso l'agenzia Cassa di risparmio di Bologna, di via Toscana. Sì. Doveva compiere un'operazione al banco, ma... Esatto. Che ore potevano essere, signora? Poco prima delle otto. Che cosa successe? Dunque, come entrai nell'atrio dove c'è la macchina del banco, ma... Vidi questa persona mascherata, travisata, insomma... E rimase lì un attimo perplesso, c'era già anche il direttore della banca. E lui mi disse di entrare... Lui chi? Questo rapinatore. Il direttore. Mi disse di entrare perché... Ah, il rapinatore glielo disse? Sì. Ecco, bene. Io ho già messo il piede, diciamo, sul gradino. E naturalmente l'istinto è quello di andare via, ma lui disse... Venga dentro, altrimenti se non le sparo io, le spara il mio collega che è fuori. E allora entrai. Rimase... Dove, signora? Entrò in banca, nei locali... Diciamo, nell'atrio dove c'è il banco, ma prima delle porte per entrare dentro proprio la banca stessa. Ecco, il rapinatore aveva il volto coperto, mascherato, lei ha detto. Sì, travisato. Travisato. Con una calza. Con una calza. Aveva in mano una pistola? Lei dite se aveva una pistola? Me lo fece vedere da in tasca, mi fece vedere il calcio della pistola. Il calcio della pistola. In mano aveva qualcos'altro allora? Un walkie-talkie, non so, un telefonino. Una ricettrasmittente? Una ricettrasmittente. E la usava questa ricettrasmittente? Sì, dopo l'ha usata. La usava. Come chiamava il suo complice attraverso la radio? Se lo ricorda? Vai. Ma, tipo, non so, Pasquale, Pasqualino. Erano in tre, da quel che ho capito, perché ognuno aveva il diminutivo del nome stesso. Adesso il nome esatto non me lo ricordo. Ascolti signora, lei è sentita il 27 ottobre del 93, alle ore 10 e 40 disse, costui, cioè il rapinatore, aveva una radio ricettrasmittente con la quale comunicava ad un complice chiamandolo Gennaro. Ecco, Gennaro, Gennarino. Gennaro, Gennarino. Ecco, e diceva Gennaro di entrare, di avvicinarsi alla banca? Finché siamo stati nell'atrio, no, ha detto che era tutto sotto controllo, diceva così. Quando siamo entrati, ha detto che poteva entrare, ha comunicato che poteva entrare. E dopo un po' arrivò Gennaro? Sì. Il secondo rapinatore, cioè questo Gennaro, chiamiamolo così, era ravvisato anche egli? Ma in faccia non l'abbiamo visto. Non l'avete visto? Perché ci ha fatto girare con la faccia contro le cassette di sicurezza e poi ci ha fatto entrare nel bagno. Anche il secondo rapinatore aveva una ricettrasmittente? Non l'ho visto. Non l'ha visto? No, perché appunto siamo sempre stati di spalle e poi... Senta, proviamo a descrivere queste persone. Cominciamo dal primo, da quella persona che lei trova appena arriva la mattina, alle 7.55-8. Quanto era alta questa persona? Era una persona alta, di corporatura robusta. Ecco, quanto più o meno? Potrebbe essere, lo so, più di un metro tanta a tre, 82-83. È robusta? Sì. In testa? Aveva qualcosa? Ma una parrucca sicuramente, perché si vedeva qualcosa sotto, quindi era una parrucca scura. Portava occhiali? Lei disse che per la difesa, non usiamo i termini contestazione per un accordo tacico tra tutti, ma formalmente di questo si tratta, lei disse il 27 ottobre del 93, sempre in quel verbale, portava un paio di occhiali scuri. Probabile, sono stato negli anni, mi ricordo, mi ricordo come era vestito, però gli occhiali avevano impermeabile, chiaro, addosso, un vestito sotto scuro, si intravedeva una camicia, tipo un violacero. Questa persona parlò? Sì. Lei la ascoltò quando le disse? Io ho sentito... Entra, se no ti sparo io, ti spara l'altro. E poi il colloquio che ebbe con il direttore della banca, che gli disse appunto che poteva entrare, eccetera, eccetera. Percepì un'inflessione dialettale? Sì, direttamente meridionale, molto forzata, poteva essere tipo napoletano, ecco, adesso io non mi intendo molto, però un'inflessione meridionale sicuramente. Che cosa intende per molto forzata? Cioè, nel senso che l'inflessione delle parole erano molto, cioè, forzate, come posso spiegarle? Non naturale. Non naturale, esatto. Senta, il secondo rapinatore, gliel'ho chiesto prima, non ricordo la risposta, aveva anche lui in mano una vice trasmittente? Non l'ho visto, cioè, io ho visto solo praticamente un braccio di questo secondo rapinatore perché mi ha offerto una seggiola, stranamente, ma mi ha offerto una seggiola per sedermi. Lei sempre il 27 di ottobre disse, il secondo rapinatore aveva in mano una vice trasmittente con la quale comunicava anche egli con l'esterno. Non so, probabilmente l'aveva in mano perché parlavano tra di loro, però non mi ricordo averla vista. L'altezza di quest'altro rapinatore, più o meno, quanto poteva essere? Forse era più basso, io proprio l'ho intravisto un secondo, era più basso però non... Ecco, qui c'è una contraddizione, sempre in quel verbale, lei disse, era alto come l'altro, quindi grosso modo all'epoca lei indicò più o meno le altezze come analoghe dei due rapinatori. Era strano però che abbia detto così, cioè probabilmente l'ho detto ma ero... Ma per quel che mi posso ricordare è un po' più basso, per quell'attimo che l'ho visto poi... Un po' più basso del primo? Comunque sempre di una persona alta stiamo parlando. Un po' più basso del primo ma sempre di una persona alta stiamo parlando. Io l'ho intravisto dopo che ci ha messo dentro il bagno che lui era di spalle e poi dopo non abbiamo più visto niente. Perfetto. Mi segue un secondo. Il primo era alto e ce l'ha detto. Sì, il primo l'ho visto bene. Il secondo era un pochino più basso del primo, però comunque la possiamo sempre definire a questa persona come una persona alta. Sì, certo. Senta, l'accento della seconda persona, l'inflessione dialettale... Ma parlavano tutti nella stessa maniera. Tutti nella stessa maniera. Lei sentì anche la voce del terzo complice? No. Attraverso la radiotrasmettente? No, io ho sentito solo queste due. Sempre in quel verbale lei disse l'accento siciliano come anche la voce del terzo che ho udito via radio. Via radio? Cioè io non sapevo chi era perché quando parlavano via radio eravamo nell'atrio della banca, quindi io non so se poi dopo... Lei ha sentito dalla radio uscire una voce? Cioè io avevo capito che erano in tre per i colloqui che facevano tra di loro, però adesso io non mi ricordo, insomma, che sono passate tre anni tutte le voci che posso aver sentito. Comunque in tutti i modi avevano tutta un'inflessione meridionale, ecco. Tutte le inflessioni. Senta, lei sarebbe in grado di riconoscerli? No. Un'altra domanda e la ringrazio. Grazie. Altro, aspetti, aspetti. Prego, avvocato Moser. Luca Moser, parte civile Buscaroli. Una precisazione per cortesia, signora. Ricorda il tipo di travisamento che aveva il primo rapinatore? Che tipo di mascheramento aveva? Io mi ricordo che aveva questa parrucca chiaramente scura, una calza... Signora, signora, nel microfono, per cortesia. Una calza sopra il viso e il bavero dell'impermeabile tirato su. E poi c'è una precisazione e contestazione in relazione sempre al primo rapinatore, prima aveva detto, mentre gli altri due avevano detto con precisione, accento siciliano, del primo aveva detto forse napoletano. Comunque, meridionale, ecco, siciliano, polenico, non è che le capiscono. No, aveva indicato con precisione, inflessione della età siciliana, molto forzata. Grazie. Ci sono altre domande? 20 gennaio 1994, via Barelli, rapina la Cassa di Risparmio di Ravenna, una banca che è stata rapinata due volte, il 10 maggio del 1993 ed il 20 gennaio del 1994. Sentiamo le deposizioni più significative relative a questo episodio. Buongiorno, si chiama? Sono un'infiziana. Pubblico Ministero ha parlato delle domande. Buongiorno, signora. Stiamo parlando di una rapina avvenuta presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, di via Barelli, il 20 gennaio del 1994. Lei all'epoca era il direttore di questa agenzia bancaria? Sì, sì. Che cosa successe quel giorno, 20 gennaio 1994? Dunque, nella sera, verso le 5, 5 e un quarto, 17 e un quarto circa, un collega uscì dalla filiale perché era finito l'orario di lavoro. Zinga? Zinga Mario, sì. Zinga Mario, sì. Zinga Mario e uscì e poi risuonò di nuovo alla porta. anche a noi, insomma, pensavamo avesse dimenticato qualcosa in ufficio, mentre guardando ci accorgemmo che era minacciato. Avevo una persona di fianco, aprimo la porta di servizio e entrò accompagnato da un malvivente. Da che cosa capì che l'accompagnatore era un malvivente? Beh, dal fatto che era, diciamo, in qualche modo camuffato da una parrucca. Poi, vabbè, la prima impressione, andammo tutti nell'ufficio perché la porta era nel mio ufficio. Nel mio ufficio io ebbi la prima impressione di se questo l'ho visto ancora perché era lo stesso rapinatore della rapina precedente. Era lo stesso rapinatore della rapina precedente. Ricorda la data della rapina precedente, signora? 10 maggio, dunque, questa è la 93. Bene. Allora, questo rapinatore entra in banca insieme a Zenga. Sì. Chiede il denaro? Chiede, sì, adesso esattamente, non ricordo esattamente quale fu la prassi precisa, comunque sì, chiese il denaro, lo accompagnammo nella sala, ci disse di rimanere fermi dietro una scrivania e andò con Fughelli alla cassaforte. La cassaforte, la cassaforte era ancora aperta, mi pare, sì, perché non avevamo ancora chiuso il conto cassa, e prese il denaro, fece dei problemi, mazzetta civetta, mazzetta civetta. Che non voleva la mazzetta civetta, perché tra quei soldi c'era una mazzetta civetta? Sì, c'è di solito una mazzetta segnalata, ecco, di cui conosciamo la matrice, ecco, i numeri di matrice delle banconote. Si impossessò di denaro? Si impossessò del denaro, sì. Quanto? Più o meno. Ostante, rotti mi pare, ecco, circa. Allora parlo di 83 milioni circa. Sì, sì, adesso non... E anche della mazzetta segnalata, si impossessò? No, sa che non... io penso di sì, perché adesso non ricordo questa cosa, cioè, dovrei andare a vedere nel verbale che vi ha rilasciato in quel momento, adesso non... Non c'è parola circa l'impossessamento o meno della mazzetta civetta. Senta, oltre che del denaro in contante, si impossessò anche di assegni? Eh, purtroppo sì, 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 portò via tutta la dotazione che avevamo di assegni circolari. Per un totale, venne indicato in denuncia, di 470 assegni? Sì, sì. Invece no, indicaste anche, adesso lo noto, glielo ricordo, si precisa che fra il contante era la mazzetta civetta composta da 100 banconote da lire 5.000. 5.000, sì, sì. 5.000, piccolo taglio. Senta, dove riposa il denaro questo rapinatore? In una borsa, al momento, se non ricordo, insomma, l'istituzione della borsa non la ricordo più. Quanto durò l'operazione, la rapina? Ma, 10 minuti, 5-6 minuti, non so. Riguadagnò l'uscita insieme a chi? Insieme a Zenga. Insieme a Zenga. Senta, il rapinatore era armato? Era armato, sì, aveva un'arici trasmittente, oltre ad una pistola, che non so poi, insomma, esattamente di che tipo, non ricordo. Le venne remostrata una volta che lei venne sentita in questura la pistola in dotazione alle forze dell'ordine? No. No. Perché qui lei dice, mi sembra di ricordare, sto parlando delle dichiarazioni delle rese il 20 gennaio alle ore 20.30 del 94, presso la squadra mobile, lei qui dice, mi sembra di ricordare se trattasse di un'arma del tipo di quelle in dotazione alle forze di polizia. Ah, può darsi, in quel momento ricordando qual era, al momento adesso proprio non saprei, ecco, non ricordo più di che tipo di arma fosse. Può aver detto una cosa del genere? Sì, se l'ho scritto sicuramente. Senta, ha detto che aveva anche una radiotrasmittente? Sì, sì. Parlava, la usava questa radiotrasmittente? Sì, sì, parlava, sì, sì. E riusciva a ricevere risposta dall'esterno? No, questo non lo so perché noi poi non sentivamo la risposta dall'esterno. Ma lui come chiamava il complice attraverso la radiotrasmittente? Quale nome usava? Ma il nome... Gennaro, Gennarino, Gennaro, qualcosa di così. Gennaro, Gennarino. L'accento? Era meridionale. Meridionale. Ecco, già ce l'ha detto prima e la domanda gliela riformulo. Questo rapinatore, lei ci ha detto che era lo stesso che aveva rapinato l'agenzia... Un anno prima. ...nel maggio del 93. Lei di questo è sicura? Sì, la prima impressione, quando l'ho visto entrare ho detto che questo purtroppo è la stessa persona. È la stessa persona. È l'unica cosa di cui sono certa. Senta, quanto era alto questo rapinatore? Un'80, sì, un'80 circa, guardando il venga più o meno. Già l'ha detto, ha detto che aveva una parrucca? Aveva una parrucca, sì. Parrucca, gli occhiali mi pare, adesso però non... Questo... Gli occhiali, sì. Lo disse anche allora. Col permesso della Corte io le mostrerei un album fotografico contenente alcune immagini. Lei ci dica se Traccostoro riconosce il rapinatore che entrò e nel maggio del 93 e nel gennaio del 94. Grazie. Diciamo che la somiglianza è della foto numero due. Ecco, io naturalmente non ho la certezza che sia questa persona. Diciamo che è quello a cui assomigliava di più rispetto agli altri. La certezza non la posso... Vabbè, lei lo nota somigliente? Sì, con la larghezza del viso. Adesso, forse vedendolo camuffato come l'abbiamo visto potremmo dire sì, magari... Però, diciamo, la fattezza del viso, il viso così squadrato, l'imponenza, le spalle, così... Gli zigomi qui. La foto numero due? Sì. Va bene. Vogliamo mostrare alla Corte la foto numero due, così diamo altri visi. Il fatto che riproduce le sembianze di Savi Fabio. Sono altre domande, grazie. Ci sono domande? Nessuna domanda? Puoi andare, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Paola Dragobani. Pubblico Ministero riporrà delle domande. Sono qua. Buongiorno, signora Dragobani. Lei, nel gennaio del 94, lavorava come impiegata presso la Cassa di Risparmio di Ravenna, via Barelli? Sì. Sì. Che cosa è successo il pomeriggio di quel giorno? Quel giorno io stavo ultimando le operazioni di cassa perché ricoprivo il ruolo di cassiera. quando il mio collega Zenga è stato il primo ad uscire dalla filiale. Io ero ancora impegnata nel mio lavoro e a un determinato momento ho sentito la porta del metal detector suonare. e il mio collega Fughelli mi disse Paola apri perché c'è Mario che deve entrare. Mario? Zenga. Zenga che deve entrare. Allora. Facci i pianeti. Vada più lentamente, grazie. Scusi, ci dici che ora era? Le 17. Le 17. Sì. Allora io ho come sempre insomma ho tastato il tasto per dare in via l'apertura della porta del metal detector però questa porta non riusciva ad aprirsi. Io ero convinta magari di aver sbagliato io a digitare il tasto. Si avvicina Fughelli perché noi abbiamo anche il microfono nella tastiera dove uno dà via l'apertura della porta. C'è il microfono e Fughelli ha detto bisogna aprire perché c'è Mario che è minacciato. Zenga è minacciato. Allora a un determinato momento non mi ricordo chi penso, cioè ritengo Fughelli, adesso questa è una cosa che mi sta sfuggendo in questo momento, abbiamo aperto la porta di servizio, cioè non abbiamo fatto entrare Zenga con il rapinatore dalla porta del pubblico, bensì da quella di servizio che è diciamo lì adiacente. Io ero ancora nel mio posto di lavoro, arriva Zenga e si presenta sulla porta il rapinatore. Allora il rapinatore ci minaccia con una pistola e si avvicina diciamo a me dove poi io avevo la cassaforte e mi dà ordine di... io avevo ancora le chiavi diciamo della cassaforte in quanto era aperta poi perché io dovevo ancora terminare i miei lavori. erano diciamo lì accanto a me e ho abbandonato tutto e il rapinatore aveva dato ordine, io ovviamente lo guardavo, ero molto diciamo anche impaurita e mi disse, mi aveva ordinato di chiudere la tenda perché noi in filiale abbiamo quelle tende, come posso dire, che si aprono e si chiudono a... non so adesso non mi viene il termine esatto, comunque avete capito. mi impartì questo ordine ma io non mi ero paralizzata, non ero riuscita ad eseguirlo. Allora mi ha aiutato, non so se Fughelli o Zenga a fare questa cosa e ci ha ordinato tutti di andare al muro perché tutte le operazioni di spoglio che fece poi il rapinatore li fece con l'assistenza diciamo del ragioniere Fughelli. Senta, ricorda quanto denaro si portò via? A cavallo degli 80, più o meno. Senta, quanto era alto il rapinatore? Non ho capito, scusi. Quanto, scusi lei, quanto era alto il rapinatore? Molto, su 1,80-1,90. Era un uomo molto alto. Molto alto. Corporatura? Robusta, grossa. Robusta. In testa aveva qualcosa? Non mi ricordo in testa se avesse qualcosa. Aveva dei capelli naturali? No. Più di miei? Bianchi. E che cosa aveva? Aveva un paio di occhiali nel volto e poi aveva una calza diciamo che parlava col viso scoperto però ogni tanto questa calza l'aveva qui, se la tirava su. Aveva qui al collo? Sì, al collo, esattamente. Se la tirava su e ogni tanto si copriva. E ogni tanto si copriva. Senta, ha detto che era armato di? Aveva una pistola. Aveva una pistola. Aveva qualcos'altro in mano oltre a una pistola? Sì, aveva una borsa blu dove poi ha messo il denaro. Messo il denaro. Dialogava o cercava di dialogare con un complice all'esterno? Sì, lui aveva una radiotrasmittente e per due o tre volte, adesso non mi ricordo, diceva Gennaro dall'altra parte con un accento diciamo meridionale. Perché diciamo? No, volevo dire. No, no, non c'è polemica. Diciamo meridionale perché non la convinceva questo accento. Sì, non mi convinceva. Cioè vuol dire che era? Che era un accento artificiale, ecco. Questo volevo sapere, grazie. Senta, e riuscì a parlare con questo Gennaro? No. No. Gennaro dall'altra parte non si è sentito dire niente. Senta, nel caso venissero mostrate delle fotografie, lei potrebbe riconoscere il rapinatore? Posso? Prego. È la foto numero due e tre. Grazie. Si riproduce Savi Fabio. Ti ho finito, la ringrazio. D'accordo. Posso andare? No, no, no. Ci sono delle domande? Buongiorno signora, sono l'avvocato Picco di Fendalberti. Buongiorno. Senta, lei nell'elementatezza dei fatti ha mai lasciato degli identi? C'è stata mai... Scusi, non sento molto bene. Sì, sì, signora, però rispondo sempre al microfono. Ah. Fagli un po' più obbuciato. Lei ha mai indicato degli identi? Delle foto gli sono mai state mostrate? Le foto mi sono state mostrate questa volta? Adesso? Prima, prima, subito dopo la rapina o successione? Dunque, no, quando noi ci siamo recati in questura, diciamo, abbiamo ricostruito... E ora, mi parlava sicuro e lentamente. Sì, quando noi ci siamo recati in questura, abbiamo descritto la persona, ecco, abbiamo dato noi una descrizione della persona, però delle foto in quell'evenienza lì non mi sono state esibite o mostrate. cioè, noi abbiamo ricostruito, noi, diciamo, il volto della persona, tramite la descrizione che poi ho confermato ora. Quindi le uniche prime foto che lei ha visto sono state quelle di stamattina? Sì. Senta, che tipo di occhiali vedi? Aveva un paio di occhiali, io non so se... questi occhiali erano molto... avevano una montatura molto grossa, dava l'impressione che questa persona fosse mio, insomma, quelle lenti abbastanza grosse, però io... Le spesse. Spesse, esatto, spesse, lenti spesse. La calza da donna, che mi pare lei abbia parlato, era travisata da una calza, detto? Sì, la calza... Non ha detto calza da donna, è una maglia. Sì, era... Quello che fosse, insomma. Sì. Copriva anche gli occhiali o no? No, lui al massimo questa... questo tessuto, se lo era messo fino qui, ecco, se era giusto... Alla base del naso. Esatto, fino alla base del naso. Lei ha detto saltuariamente? Sì, si sarà coperto al massimo due volte, perché la maggior parte lui conversava a viso scoperto. Senta, lei ha mai avuto la possibilità di vedere le foto degli imputati o della persona che ha riconosciuto questa mattina, che ha riconosciuto questa mattina, in televisione o in fotografia? Certamente. Io l'ho visto in televisione, più volte. E aveva già notato questa... Lei che cosa... che sensazione ha avuto quando l'ha detto? Io l'ho avuto, appena l'ho visto, detto è lui. Sì, perché io... anche se... cioè, ovviamente lui non è che si sia presentato a viso scoperto come ho potuto ravvisare adesso dalle foto, però, cioè, era il taglio del viso che... perché il viso è abbastanza ampio del Sadi, del signor Fabio Sadi, per cui ho avuto questa... non ho avuto... Questo convincimento. Convincimento. Finito, grazie. Ci sono domande? Nessun'altra? Signora, grazie, può andare. Arrivederla. Buongiorno. Si accomodi. Signora, come si chiama? Sì, di Bruna. Sì. Signora, pubblico ministero, riporre delle domande. Buongiorno. Buongiorno. Successivamente alla rapina consumata presso la Cassa di Risparmio di Ravenna di via Barelli, il 20 gennaio del 94. A lei sovvenne qualche particolare significativo che riferì in una relazione di servizio? Sì. Che si ricorda? Durante il servizio, una mattina, mentre procedevamo a un controllo di alcuni estracomunitari e tossicodipendenti. In quale zona? Lì in via Barelli, cioè il bar Baragiano. Avevamo notato una Alfa 33 verde con due persone a bordo, che incontravano una terza persona che li attendeva di suo posto. però queste persone, cioè noi eravamo già impegnati in questo controllo, quindi non potevamo procedere ad un ulteriore controllo, anche perché queste persone non erano sospette, cioè non erano delle... le abbiamo viste e basta. Quindi avete visto due persone che incontrano una terza persona? Sì, scendevano dalla macchina, chiudevano la macchina chiave e poi incontravano questa persona e andavano all'interno del bar. Ecco, la terza persona ricorda qualche caratteristica fisica particolare? È alto 1,80 o meno, sui 35 anni. E le due persone scendevano da una 33? Verde. Verde. Senta, sia lei che i suoi colleghi, o solo i suoi colleghi ci dica, ha visto una qualche sensazione in ordine all'autista di questa Alfa 33? Cerca il comportamento. Ce lo riferisca per come lo riferì all'epoca? Cioè, avevamo avuto la sensazione che fosse una delle forze di polizia, non so. Cioè, una sensazione così per come si muoveva, come si guardava in giro. Nient'altro. E voi eravate in via Barelli? Sì. Eravate vicini o lontani all'agenzia della Cassa di Risparmio di Ravenna? Cento metri. Cento metri. La data... Se ben ricordo era sabato, quindi era chiusa. Era chiusa l'agenzia perché se ben ricordo era sabato. La data di questo, diciamo così, incontro visivo con questi personaggi, la ricordo oppure no? Forse gennaio. Non ricordo. Che fosse gennaio è fuori discussione, se no lei non sarebbe qui oggi a ricordarci. Allora, la rapina è del 20. Lei nella relazione disse in data sabato 15 gennaio 94, durante il turno 7-13. 13. Notò questi particolari che ci ha riferito. Senta. L'autista aveva un atteggiamento analogo, tipico. Ce lo vuol descrivere? Ci prova un attimo. È come quando si vede un pregiudicato. Si può presumere che quello sia un pregiudicato, poi magari alla fine non lo è. Però, cioè, lavorando per tanto tempo nel nostro ambiente, inizia a classificare le persone, cioè, riconoscere il collega, anche se poi alla fine magari non è un collega, non lo so. Ecco, ma lei riconobbe questa persona che aveva un atteggiamento analogo a quello? Non lo conoscevo. No, sì. Cioè, lo riconobbe o no? Sì, però... Chi era? Non è detto che poteva essere. Cioè, vi dava la sensazione, ma non è detto che poteva essere. Ascolti la domanda. Avuta questa sensazione, in costui, nell'autista, lei riconobbe un qualche collega col nome e cognome? No, 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 assolutamente. Assolutamente. Lei a chi riferì e perché riferì dopo la rapina questa cosa che ci sta raccontando? Successivamente ci fu una rapina nel pomeriggio e avevamo avuto la nota di una 33 verde che ancora era ricercata perché non era stata ritrovata. E quindi ci venne in mente la 33 da noi vista e andavamo dal dottor Preziosa e ne parlamo e lui ci disse di fare una relazione. Di fare una relazione. Gennaio 1994, lei lavorava sui volanti? Sì. Roberto Savi lo conosceva? Sì. Era Roberto Savi al volante? No, assolutamente. Non ho altre domande, grazie. Senta, questa sua sensazione di appartenenza a forze dell'ordine dell'autista, la scrisse già nella relazione? Sì. Lei vide gli altri due che erano nell'auto? Involto? No, nell'auto, solo una. Erano in due. Poi c'era la terza persona che invece era sotto i portici. Ecco, lei chi notò nel volto? E' quello l'autista. Solo l'autista? Sì. Che altri due non vide, non... Sommariamente, cioè non è che non ci ha fatto caso. Va bene, può andare, grazie. Sentiamo adesso la deposizione del dirigente della squadra mobile di Bologna, che ricostruisce la dinamica della tentata rapina presso la banca cooperativa di Imola di via Bainsiezza. Nel corso della quale venne commesso il duplice tentato omicidio in danno dei signori Santini e Convertino. Buongiorno, torno a teo, ci rivediamo, prego. Il pubblico ministero riporrà delle domande. Tor Maceo, buongiorno. Buongiorno. Può riferire alla corte come il suo ufficio, all'epoca, stiamo parlando di un episodio del marzo 94, all'epoca lei dirigeva la squadra mobile di Bologna, come il suo ufficio ricostruì attraverso le testimonianze e la dinamica della tentata rapina presso la banca cooperativa di Imola di via Bainsiezza, nel corso della quale venne commesso il duplice tentato omicidio in danno dei signori Santini e Convertino. Grazie. Dunque, erano circa le 17.45-17.50, quando ci fu la segnalazione da parte di un impiegato della banca che segnalò telefonicamente al 113 che c'era stata una tentata rapina e che un loro collega era stato ferito. La banca, se non va derrato, era collegata con l'allarme dei carabinieri dell'arma. Immediatamente sul posto arrivano le volanti, il personale della mobile e vengono attuate il piano antirapina. Apprendiamo dagli impiegati di banca, poi successivamente riusciamo a creare tutta la vicenda che il signor Santini era da poco uscito dalla banca quando era ritornato, seguito da un'altra persona. E avevano potuto vedere distintamente che questo sconosciuto aveva frapposto, fra la prima porta d'entrata, il piede per non far chiudere la porta. Il Santini chiede di poter entrare in banca, questo poi lo apprendiamo successivamente direttamente da lui prima che fosse operato, che chiede alla collega di aprire anche la seconda porta che dà accesso alla banca. La collega chiede che colui il quale stava dietro e si era messo ben defilato in modo da non poter essere ripreso dalle telecamere. Per cui quando prendiamo le dichiarazioni, supponiamo anche che la persona sapesse della presenza della telecamera, perché tutti gli impiegati dicono che non riescono a guardarlo bene in viso perché le luci che si riflettevano sul vetro non gli davano questa possibilità. E di lì a poco, visto vano il tentativo di poter entrare in banca, vedono che lo sconosciuto, con una rice trasmittente, parla con un'altra persona. E credo che le parole siano... Kumbha non vogliono aprire e dall'altra parte dice... Kumbha sai quello che devi fare? Ecco, più o meno questo era il discorso delle parole. E lo sconosciuto fa qualcosa? Sì, lo sconosciuto appena terminato di parlare, esplode tre colpi di pistola che attingono i lassantini alla gamba e al braccio. Di lì a poco il rapinatore esce fuori dalla banca e vede poco distante un altro individuo che poi verrà identificato per convertino. Il tizio si volta perché ha sentito sparare e nel momento in cui si volta il rapinatore spara all'indirizzo del convertino, spara alcuni colpi. Uno lo lambisce il fianco sinistro e l'altro colpo va a convicarsi nel parabrezza di un furgone che era parcheggiato lì in via Bainziz. Il convertino identificato dopo, dico il nome perché dopo verrà identificato quando verrà ricoverato in ospedale e la prognosi se non va derato era di uno otto giorni e viene dimesso lui se va a casa il convertino a questo punto si rifugia dietro il suo furgone. Il rapinatore lo insegue per cercare probabilmente di finirlo, di esplodere in qualche altro colpo e il convertino dice che anticipava le mosse del rapinatore perché man mano che avanzava lui girava intorno alla macchina poi si sposta verso un Volkswagen e nel momento in cui girava il rapinatore lui lo anticipava nelle mosse tant'è che il rapinatore, poiché non riesce a colpirlo si allontana e nel momento in cui si allontana spara altri due colpi che vanno a finire nell'unotto della Volkswagen. Dottor Maffaeo ricorda più o meno, se lo ricorda con precisione meglio, quanti bossoli vennero repertati? Dunque credo che furono recuperati sei bossoli più delle ogive. Esatto, un frammento di ogive. Ricorda il calibro di questi bossoli? Sì, il calibro era una 9 per 21. Non ho altre domande, anzi approfitto della sua presenza perché l'ultima volta almeno per quel che riguarda i testi del pubblico ministero che introduciamo il Dottor Maffaeo noi abbiamo esaminato e stiamo esaminando molteplici rapine a agenzie bancarie le chiedo, tutte le agenzie bancarie rapinate dalla cosiddetta banda dell'anno bianca avevano come caratteristica quella di non essere fornite di vigilanza esterna? Molte non ne avevano Molte non ne avevano e credo che sia anche quella di via Bainzizza. Perché questo? Perché la signora presso la quale il convertino era andata a fare un lavoro di Dio, lui era un idraulico, nel momento in cui sente sparare poiché non vede ritornare il convertino subito si affaccia alla finestra e vede l'individuo che indossa un giubbotto a maniche corte tant'è che dirà mi sembrava che fosse una guardia giurata. Perfetto, comunque quell'agenzia la guardia giurata non l'aveva? Credo di no Questo è un particolare che ormai abbiamo riscontrato in diversi altri episodi criminosi Le chiedo in base al suo ricordo e alle sue conoscenze a Bologna negli anni 92, 93 e 94 altre agenzie avevano invece un servizio di vigilanza di guardia giurate? Cioè era un'istituzione, diciamo così, attiva sul territorio cittadino? Sì, alcune banche Presidente, chiedo scusa, prima che risponda alla domanda sapete, dottore, che periodo è stata a Bologna anche? Sì, ma è già in stato sentito dopo Sì, ma forse è Lui era capo della squadra mobile in quel momento Che anni? Sono dal gennaio 93 al maggio 95 Però, per quanto io, c'erano banche che avevano la guardia giurata davanti come Quindi possiamo dire che a Bologna in quegli anni c'erano degli istituti di credito che avevano il servizio di vigilanza esterno e degli istituti di credito che non l'avevano Grazie, non altro da mai Domande nessuna? Si può accomodare, grazie Buongiorno, si accomodi Lei come si chiama? Santini, Alessandro Ah, buongiorno, sì Grazie Pubblico ministero, prego Grazie Dottor Santini, buongiorno Buongiorno Lei, nel marzo del 94, lavorava presso quale banca? Banca cooperativa di Imola, l'agenzia di Bologna di via Bainsizza Bainsizza Il giorno 3 marzo del 94, in orario pomeridiano, lei aveva terminato il suo turno di lavoro e che cosa successe quando si apprestò ad uscire, anzi dopo che lei uscì dalla banca? Sì, io sono uscito, ero il primo a uscire dei miei colleghi e sono uscito verso le 17.45, mi sono recato in direzione della mia auto, la mia auto era parcheggiata di fronte alla banca, c'è un cortile interno al quale si accede soltanto con una sbarra, ecco che uno può sollevarlo con una chiave, con un telecomando, comunque è un cortile interno Mi sono recato appunto nella mia auto per andare a casa, sono entrato, ho inserito la chiave, in questo momento, pochi istanti prima di partire, mi sono accorto, ho visto con la cosa dell'occhio che una persona sta venendo in direzione della mia auto Diciamo, ecco io ho messo, diciamo come sono messo adesso, la persona veniva dal lato alla mia sinistra, in maniera obliqua, non proprio completamente alle spalle per cui io la vedevo con la cura dell'occhio A questo punto ho aspettato qualche secondo, anche perché la persona era abbastanza vicina, insomma si avvicinava con passo abbastanza spedita, con un discorso comunque con passo spedito Quindi ho aspettato, fermo nel mio posto di guida a vedere questa persona che intenzioni aveva e che cosa voleva fare E a un certo punto questa persona ha aperto lo sportello della mia auto, io non avevo inserito la chiusura centralizzata, quindi l'ha aperto tranquillamente E mi ha detto scendi in maniera abbastanza, abbastanza brusca Io a questo punto sono sceso e me lo sono praticamente trovato di fronte Era armata questa persona? Sì, questa persona era armata, aveva in una mano, ed esattamente la mano sinistra, una busta diciamo Una busta e nella mano destra invece era una pistola, questa pistola era inizialmente nascosta dalla busta che il rapinatore portava Il rapinatore non ha fatto altro che spostare lateralmente la busta nella sua sinistra facendomi vedere che sotto aveva la pistola Non me l'ha puntata, me l'ha solo fatta vedere, ha fatto questo movimento qui Era una pistola a tamburo o puoi escluderlo? Dunque era una pistola, non a tamburo, automatica Bene, allora lei scende, anzi è già sceso, che cosa succede? Appunto il rapinatore mi fa vedere la pistola e dice ci siamo già capiti, torniamo indietro A questo punto io mi avvio per primo e lui immagino che mi abbia seguito Anche se ovviamente non mi voltavo indietro per vedere cosa stesse facendo questa persona A questo punto la macchina era parcheggiata una decina di metri dall'ingresso della filiale Che ovviamente era chiuso non essendo più aria di sportello A questo punto suono il campanello I miei colleghi rispondono chi è? Io dico sono io, fatemi entrare Non ho accennato a niente perché non avevo avuto disposizione in merito del rapinatore Quindi ho detto soltanto sono io e sono entrato nella prima porta Dopodiché istintivamente mi arrivo verso la seconda porta La banca non ha le porte a bussola, quelle 200, una sola persona Tra la prima e la seconda ci sono diverse Saranno due metri e mezzo e comunque hanno uno spazio abbastanza ampio Io mi dirigo istintivamente verso la seconda porta Anche perché nella mia testa presumevo che il rapinatore volesse entrare con me all'interno della filiale Sto per appoggiarmi contro la seconda porta E il rapinatore mi riprende Mi disse stai fermo, guarda che ti faccio secco il colpo in canna A questo punto io mi giro verso di lui abbastanza interdetto Per avere spiegazioni su come mi dovevo muovere A questo punto il rapinatore mi disse fai sbloccare tutte le porte E chiama qui i tuoi colleghi o un tuo collega Comunque non credo sia molto importante A questo punto io ho fatto l'unica cosa che era nelle mie possibilità a fare Visto che ero all'interno di queste due porte, con i vetri spesso di quattro dita L'unica cosa che potevo fare è fare dei gesti chiamando i miei colleghi E si avvicinò qualcuno? No, i miei colleghi rimasero dietro al bancone nella console Dal quale si può parlare sia al citopono e sia aprire o chiudere le porte Senta, la prima porta, quella che superate sia lei che il rapinatore Si richiuda le vostre spalle? No, il rapinatore rimase in mezzo Per tenerla aperta Io ero in mezzo alle due porte e lui era in mezzo alla prima che la tenera aperta Senta, il rapinatore oltre alla pistola in mano aveva qualcos'altro in una mano? Dunque, il rapinatore, diciamo, fatto questo primo scambio di parole Ho notato la prima volta appunto che mi sono girato verso di lui Che lui aveva una radio, una radio ricettrasmittente con la quale stava comunicando qualcosa Che io a un momento non capì, comunque la vedi bene Lei non sentì la frase che il rapinatore comunicò al complice all'esterno Quando si crearono queste difficoltà per entrare in banca? In un secondo momento, sì, in un secondo momento riuscì a cattare un brano dicendo la loro conversazione Che cosa disse il rapinatore attraverso la ricettrasmittente al complice all'esterno? Il rapinatore quando si accorse che la rapina comunque non riusciva ad andare in porto in tempi ragionevoli Si rivolse al complice In quel momento probabilmente ci eravamo più avvicinati Lui parlava più forte, in tutti modi io sentì bene quello che disse Dicendo tipo compà, o comunque una frase del genere Sicuramente compà, o comunque un nome accentato E qui non la vogliono capire E dall'altra parte la persona risponde semplicemente Fai quello che devi fare Questi sono gli attimi che hanno preceduto il mio ferimento Fai quello che devi fare E il rapinatore che era con lei Fesce qualcosa? Dunque a questo punto ci furono un qualche attimo che per me era interminabile Però era proprio qualche attimo diciamo di silenzio A questo punto io vi dico la coda dell'occhio perché lui era dietro di me Però un po' spostato sempre in maniera obliquo Quindi io lo vedevo, lo avvertivo alla sua presenza con la coda dell'occhio Ho visto che ha fatto uno scatto abbastanza brusco verso l'esterno Io addirittura per un attimo mi illusi che questo rapinatore volesse andasse via Ha fatto uno scatto abbastanza brusco verso l'esterno Io mi girai istintivamente verso lui per vedere che cosa stava accadendo A quel punto senti due colpi Un male incredibile alle gambe Poi mi ritrovai per terra qualche istante dopo Ecco poi parliamo delle ferite Ci vuole descrivere il rapinatore? Quello che le sparò Cominciamo dall'altezza Dunque il rapinatore era Io sono alto 1,75 Premetto così posso avere dei riferimenti Posso farvi capire i miei riferimenti Il rapinatore era più alto di me Ma non di tanto Quindi io direi nell'ordine di un metro e ottanta Era volto scoperto? Sì, quella sera lì il rapinatore era volto scoperto Senta Successivamente All'arresto dei fratelli Savi Di Fabio, Roberto e Alberto Lei Ha avuto modo di vedere Le immagini di Costoro sia in televisione che sui giornali? Sì, direi anche Anche troppo Lei ha avuto anche modo di vedere O di assistere a qualche udienza Del processo che si è Celebrato nei confronti di Costoro Presso la Corte d'Assise di Rimini? Sì, ho assistito Diciamo, penso che fosse la prima udienza Comunque A un'udienza diciamo Che si celebrava presso la Corte di Rimini Nella quale erano presenti Fabio Savi, Roberto Savi E anche Gugliotta E anche Gugliotta Ha riconosciuto tra queste persone E vedendo le immagini sui giornali E vedendo le immagini in televisione E vedendo 3 di Costoro Dal vivo nel corso di un'udienza a Rimini Ha riconosciuto il rapinatore che le sparò? Il rapinatore che mi sparò è Fabio Savi Sia come corporatura Sia come volto E quella sera era scoperto Era scoperto Senta, lei dove venne ferito con precisione? Dunque, io sono stato ferito Alle due gambe Nella gamba sinistra Con frattura del femore Nella gamba destra Non ho avuto frattura Però ho avuto fratturato Il vitone diciamo Del piede destro E poi sono stato ferito Al braccio sinistro Può indicare alla corte Poi ne daremo atto L'altezza A quale In quale punto è stato ferito Del braccio sinistro Praticamente quasi sotto l'ascella Comunque è questa parte qui Che distanza c'era Tra lei e il rapinatore Quando costui sparò? Direi orientativamente Sul metro e mezzo Ecco Io ero in mezzo alle due porte Lui era proprio sulla porta entrata Quindi direi Quella distanza lì Quindi quanti colpi Sparò al suo indirizzo? Se può quantificarceli Anche in ragione delle ferite Quanti colpi ricevette lei? Io presumo almeno tre Nel mio caso Io ho sentito i primi due Con un bruttissimo lodo di gambe E poi mi sono Diciamo Quando mi sono riavuto Sarà stato qualche istante Un attimo Un attimo sotto il so Mi sono riavuto In mezzo alle due porte Perfettamente cosciente Però avevo sentito solo quei due colpi Solo quei due colpi Non mi ero accorto Che avevo anche una ferita nel braccio Quasi vicino al pezzo direi Però quello probabilmente Mi è stato fatto Almeno secondo la mia ricostruzione Nel momento in cui io ero per terra Nel braccio Quando indica il braccio Indica la regione ascellare? Sì, sì Porto lì Sinistra? Sinistra, esatto Braccio sinistro Senti, il rapinatore Quando le sparò Aveva il braccio Il suo braccio Il braccio del rapinatore Che lei ricordi Era teso? Oppure No? Dunque Di quella rapina lì Ricordo bene quasi tutto Però il momento in cui lui Esattamente ha puntato l'arma Non lo ricordo Quindi direi C'è l'inesatto I postumi Per quanto è stato male Per quanti giorni Si è dovuto assentare dal lavoro Dunque Io sono stato a casa dal lavoro La prima volta per sette mesi Poi ho dovuto affrontare Altri due interventi Che complessivamente Mi hanno fatto rimanere a casa Altri due mesi Ecco Al momento Al momento nove mesi Ecco Di assento dal lavoro Senta Lei ricorda di essere stato Sentito Presso L'ospedale Un attimo prima Forse di essere Ricoverato Successivamente medicato E quant'altro Da personale Della polizia di stato Dunque Il mio interrogatore Vero e proprio Dello quale posso essere sicuro È avvenuto Il giorno dopo Ossia quando io ero in sala Reanimazione Poco dopo Quando mi sono svegliato All'intervento Lì è venuta la polizia Che ha registrato Ecco E ha registrato Sì Cioè avevano un registratorino Avevano un registratorino E dopodiché Sono tornati dopo qualche giorno A farmi leggere Quello che avevano Fatto emergere E non glielo ho chiesto Per me la dimenticanza Che cosa riferì alla polizia A parte la ricostruzione Diciamo Dell'accaduto Che quella più o meno Penso che sia Di poco Di simile A quella che Sto facendo adesso L'unica cosa Che a dire la verità Mi ha lasciato Diciamo un po' perplesso O mi è sembrata Tuttavia una domanda strana È stata la seguente La persona Che mi ha interrogato In sala Reanimazione Mi ha chiesto Una cosa Che a me sembra Inizialmente Non ci ha dato tanto peso Però è una domanda Un pochettino Un pochettino Particolare Cioè Mi ha chiesto esattamente Riferendosi a quel pezzo Di conversazione Che avevo sentito Tra i due rapinatori Mi ha chiesto Se nel corso Di questa Di questa conversazione Avevo sentito Quei tipici rumori Di sottofondo Che provengono Dalle autoradio Installate Nelle vetture Delle forze Dell'ordine Questi sono Quei tipici rumori Che io adesso Ho presente Anche perché Tutti li sentiamo Li udiamo Nei telefilm Così È una domanda Che inizialmente Mi ha fatto Mi ha fatto rimanere Un po' Stupito Io ho risposto Di no Perché effettivamente Era quella La verità Lei non aveva sentito Lei non aveva sentito Questi rumori Di sottofondo Tipici Delle conversazioni Tra auto Della polizia Non altre domande La ringrazio Avvocato Tufariello Parte civile Vorrei sapere Se il test Riesce a ricordare Complessivamente Quanto tempo Ha trascorso Insieme con il raffinatore Dal momento del prelievo Diciamo Dall'autovettura Fino al momento Del ferimento Io direi Ad occhi e croce È stata una rapina Abbastanza lunga Secondo me Circa direi Una decina di minuti Sarà durata Perché È stata una cosa Abbastanza Diciamo Abbastanza lunga Ecco Come era vestito Il rapinatore Dunque Il rapinatore Indossava Un giubbotto Un giubbotto Abbastanza pesante Visto la stagione Che era ancora Praticamente Inverno Il giubbotto Era di colore scuro Come tessuto Direi che non era Non era né di panno Né di pelle Era tipo Trapunta Ecco Occhi e croce Potrei Comunque vestire Era comunque scuro Ecco Scuro a tre quarti Come tre quarti C'era abbastanza Luce Era già buio No In quelle giornate Lì Era proprio Da qualche settimana Che diciamo Le giornate Cominciavano ad allungarsi Per cui Al momento La rapina C'era C'era luce Ecco Luce sufficiente Per poter vedere bene Una persona Anche se non era Non era mezzogiorno Però Fino a qualche settimana Prima Diciamo che Quando uscivo Lavorare era buio Lì invece Cominciava proprio A esserci un po' Il cambio di stagione Per cui Si vedeva Ecco Quando Col pubblico ministero Abbiamo ricostruito La prima fase Poi siamo arrivati Al ferimento Allora Santini È in terra Che cosa succede Come si svolgono I soccorsi E in quanto tempo Dunque L'ambulanza È arrivata Dopo molto tempo Che ha premesso Che quando Una è in quelle condizioni Il tempo Magari gli sembra Effettivamente Più lungo Di quello che è Però Secondo me L'ambulanza Si è messo molto Direi almeno Almeno un quarto d'ora Secondo me Nel frattempo Qualcuno stava con lei C'era qualcuno attorno Dunque Io Ho presente I miei colleghi Che erano Sono venuti Mi hanno detto Diciamo le solite cose Si abbiamo chiamato l'ambulanza Mi aveva avertito a casa Tu avevi male Dove si avevano colpito Bene E la polizia Quando arrivò E arrivò la polizia O i carabinieri Dunque Io Direi che Non riesco A identificarsi Era la polizia Perché ero per terra E ho sentito delle voci Comunque sono arrivati Prima dell'ambulanza Interrompo un attimo solo Ha mai perso conoscenza Direi di no Se non proprio quel secondo Due Dopo che mi ha colpito Però Dopo mi sono Sempre stato presente Dopo sono sempre stato cosciente Ecco Molto dolorante Ma cosciente Sempre cosciente Allora stava dicendo Arrivarono La polizia è arrivata Prima dell'ambulanza Perché sentivo Che Diciamo Avevano delle conversioni tipiche Da chi fa i rilievi Passami questo Dammi questo Stavano facendo i rilievi Probabilmente Cercavano di recuperare i bossoli Ecco Di quello ricordo Ricordo abbastanza In maniera abbastanza distinta Che Sentivo Di queste persone Che diceva È la 1 bianca E quella è una cosa Che mi è rimasta impressa È la 1 bianca E Qualcuno della polizia Si è mai avvicinato Parlato con qualcuno Della polizia Subito Nell'immediatezza del fatto No Quelli della polizia Sembravano Diciamo Si Si preoccupavano Di fare il loro lavoro Ecco Però Quindi che ricordi Non ricordo Che nessuno Sia Si è venuto lì Ecco A sentire Come stavo O altro Ecco Poi fu caricato Sull'ambulanza E portato In ospedale Il primo Diciamo La prima escursione Testimoniare La prima testimonianza Quindi viene resa Dopo l'uscita Dalla Sala operatoria In rianimazione Ma dopo Il primo intervento Chirurgico Dunque La prima Diciamo Quando sono M'hanno portato In ospedale Diciamo Prima che Mi operassero E quindi Ero probabilmente Al pronto soccorso Così Qualcuno Ma io pensavo Possero Gli infermieri I medici Mi chiedevano Un attimino Come erano Andate le cose Io Però Se erano poliziotti Diciamo Non si sono qualificati Come tale Che ho sentito Che ho sentito Della gente Che ero sdraiato Che mi diceva Come è andata Come non è andata Io pensavo Che fossero I medici Così Che cercassero Anche di tenermi Tenermi reattivo Ecco in un momento Come quello Che mi chiedevano Cose generiche Tipo Sull'accaduto L'interrogatorio Quello registrato Diciamo Quindi Quando avviene Avviene Il giorno successivo Dopo l'intervento Quando mi sono svegliato Che ero In In reanimazione Poi se ho capito bene Sono ritornati Alcuni agenti Di polizia Per rileggere L'interrogatorio E farlo sottoscrivere Esatto E poi c'è stata Un'ulteriore audizione Da parte della polizia Dunque Sono arrivati Da parte della polizia Che ero Viniere Sono arrivati Qualche Qualche tempo dopo Dopodiché Sono stato Ascoltato Al Al commissariato Santa Viola La nuova sede Che è al quartiere Barche In via Grandi Ma questo è già Diciamo Parecchio tempo dopo Ma eravamo già In primavera avanzata Quando ero già tornato All'ospedale Ero già in condizione Di potermi Di poter stare in piedi Seppure con le stampelle Per recarmi Recarmi là Ecco E ricorda anche Il nome della persona Che l'ha interrogata Dunque La persona Che mi ha Che mi ha interrogato Si chiama Si chiamava Si chiama Merola Di cognome Mi telefonò Prima casa Appunto Per sapere Merola Merola Per sapere Se ero in grado Di recarmi là E il cognome Mi è rimasto impresso Perché lui stesso Fece una battuta Dice Si mi chiamo Merola Come cantante Napoletano Quindi con un cognome Che si ricorda Facilmente Vede una spiegazione Di questa convocazione L'agente O l'ufficiale Polizia giudiziaria Che procedete All'interrogatorio Si Lui Mi disse Lui Mi disse Che Siccome Erano stati Loro Quei del commissario Santa Viola Ad intervenire lì Dovevano fare Dovevano aggiungere Diciamo A loro rapporto La mia testimonianza E così Per non stare Disturbando Il terremoto Mentre in ospedale Avevano aspettato Che mi riprendessi Che infatti L'interrogatorio È venuto Parecchi I giorni dopo Ecco Il fatto In occasione Di questo interrogatorio Si ritornò Sul discorso Delle ricetrasmittenti E dei rumori Di sottofondo No In questo caso No Ma hanno fatto Una cosa Abbastanza Diciamo Abbastanza normale Come ha fatto Soltanto Ricostruire L'accaduto Poi niente L'ha trascritto La macchina È soltanto Diciamo La descrizione Dei fatti Ecco L'esito Delle lesioni Sofferte Il pubblico ministero Ha già anticipato Con le sue domande Vorrei sapere Se c'è un danno Permanente E in che misura Dunque Al momento L'unica cosa Che mi è stata Riconosciuta È un Da parte Dell'Inail È un grado Di invalidità Del 12% Che mi è stata Riconosciuta Diciamo Il giorno prima Che cominciassi A lavorare Siccome dovevo Chiudere la malattia L'Inail Ti visita Ti misura E poi La gamba O le parti Diciamo Offese E mi ha dato Questa percentuale Di invalidità Di invalidità Del 12% Poi c'è la perizia Del dottor Fortuni Natti Quindi Lo valuteremo Alla luce Della perizia E Risarcimenti Percepiti A tutt'oggi Ecco Questa Invalidità Adelina Dà diritto A quella Che loro Chiamano Rendita Che è 163.400 lire Al mese Poi Rivalutata Adesso 180.000 Una rivalutazione Diciamo Devuta Luca Moser Parte civile Signor Santini Per cortesia Col femore Della gamba Fratturato Lei riusciva A stare In piedi In che momento Esattamente Quando le hanno sparato No No Assolutamente Grazie Giulietta Gozzi Parte civile Solo una precisazione In merito All'abbigliamento Del rapinatore Lei ha detto Che aveva Un giubbotto Le chiedo Se si ricorda Se era per caso Senza maniche Il giubbotto Era con le maniche Grazie Sono avvocato piccolo Per Alberto Sades Signor Santini Sulla base Delle sue ricostruzioni Sulle sue indicazioni Ma è stato Tracciato Un identikit Sì L'identikit È stato fatto Sempre Pochi giorni Dopo L'accaduto Quando era All'ospedale Che è venuta Una persona Incaricata Alla polizia Ha detto Direi che era Uno della polizia Adesso non ricordo Con esattezza Ma presumo di sì Anche perché Sono praticamente Non è venuta Quasi solo loro Che i carabinieri Sono venuti Una volta a casa mia A farmi vedere Tutta una serie Di fotografie Di pregiudicati Immagino Quindi Le vennero mostrate Anche delle foto Ha detto Questo dai carabinieri Dai carabinieri Invece dalla polizia L'identikit Sì Mi fecero Sì abbiamo fatto L'identikit E poi me ne fecero vedere Altri Diciamo fatti da altri Testimoni Per vedere se Riconoscevo Se per me andavano bene Se c'era qualcosa E l'identikit De lei indicato Quindi fatto Sulla base Della sua testimonianza Poteva essere Più o meno Vicino Così se si può dire Rispetto alle foto Che le furono mostrate Cioè c'era Una similitudine Una somiglianza Tra il suo identikit Tracciato E le foto Che le vennero mostrate Le foto O gli altri identikit Tra le foto E l'identikit Che fece fare Le foto di chi Scusi Ha detto che i carabinieri Le mostrarono delle foto Le foto di pregiudicati Di pregiudicati Certo Quelli che noi sappiamo Ricorda Le foto dei pregiudicati Prima del Dico Tra l'identikit Che lei fece disegnare E le foto Che L'identikit E la polizia Certo Le foto I carabinieri E le foto Che le vengono Mostrate dai carabinieri Ci può essere Una somiglianza Fra l'identikit E qualcuna Di quelle foto Se lo ricorda Se non Io posso solo Affermare Che Nelle foto Di pregiudicati Che mi fece Vede i carabinieri Non ho Diciamo Riconosciuto La persona Che mi ha ferito Ho solo dato Alcune indicazioni Tipo generico Nel senso di dire Come altezza mi ricorda Come faccia mi ricorda Ma erano tutti dati Diciamo abbastanza generici Non c'era Non c'era la persona Neanche Che assomigliasse Ecco Va bene Va bene È stato molto chiaro Senta Sull'accento Che lei ha detto Prima Sul linguaggio Che tipo di dialetto Tipico Che modo Poteva essere Marcato O comunque Se eventualmente Poteva essere Artefatto Dunque La questione Dell'accento È questa Poi probabilmente Non so se nel verbalo Cosa è stato molto Schematizzato Un discorso Che avevo fatto io Che invece era abbastanza ampio Io ho detto Le seguenti cose Il rapinatore Quando abbiamo parlato Diciamo Nelle 3-4 volte Che abbiamo avuto Un dialogo Secondo me Parlava in italiano Senza far travisare Particolari accenti Soltanto nel momento In cui lui Si è rivolto Al compice Ha usato Questo compa Che a me Poteva Ovviamente Uno può dire Allora questo qui Ha un accento meridionale Ben precisando Oltretutto Che io Non essendo meridionale Non ho conoscenza Di questo accento Per cui posso anche Essere tratto in inganno Ed eventualmente Nell'ambito Di questi accenti meridionali Potrebbe indicare Quale tipo Di quale regione Eventualmente Dunque L'accento meridionale Ecco lì Anche con la persona Che mi interrogò Della polizia Io dissi Questa cosa Poteva essere appunto Compa Accento meridionale Lui mi disse Campano E calabrese Non lo so Dico per me Si assomigliano un po' tutti Questa persona qui Mi dice Parla un po' Come me Io dico A grandi linee Si potrebbe essere Campano Però Tenere presente Che il campano E forse L'accento Che abbiamo un po' tutti Nelle orecchie Anche noi Quindi al centro meridionale Senza poter specificare In particolare Quale tipo Di Provenza Di quale regione Senta Lei l'altro rapinatore Lo vide L'altro rapinatore Ne vide solo uno No ne vidi solo uno L'altro Per me è stata Solo una voce Per quella frase Che ha detto Ecco niente di più Non ebbe nessuna Possibilità Di intravederla No no Assolutamente La ringrazio Una domanda nuova Che scaturisce Dal tema Difensivo L'identikit Che venne Composto Sulla scorta Delle sue dichiarazioni Le venne mostrato Sì Lei Come dire Si riconobbe In quell'identikit Nel senso che Quell'identikit Riproduceva La descrizione Del volto Così come lei Aveva cercato Di porgerla Al disegnatore E dice al momento Oppure Cioè dopo che l'ho fatto Questo Sì sì Dopo Quando il prodotto finito Le viene mostrato L'identikit È il prodotto finito Lei vedendo quel prodotto finito Cosa pensa E cosa dice Cosa dico Non ricordo Cosa penso Diciamo Non è che mi convincesse tanto Però io Mi sono sforzato Ne rendere Ne rendere più possibile l'idea Però Dopo Poi mi sono dimenticato Anche perché sono passati tanti anni Però anche un momento lì A dire la verità Non è che fosse proprio Ben riuscito Ecco Non è che fosse ben riuscito Ben riuscito Grazie Allora Altra domanda ancora Tra l'identikit Che fu disegnato Fu tracciato E la figura Di Alberto Fabio Sava Che poi lei riconobbe C'è la somiglianza A similitudine o meno? Non più di tanto Non è stato un identikit Riuscito particolarmente bene Nonostante i miei sforzi Però Riuscire a dare un'idea Di una persona E riuscire a riprodurla Su Diciamo Su un disegno Senta successivamente Allora All'arresto dei fratelli Savi Lei ebbe mai la possibilità Di vederli Oltre all'udienza di Rimini Che ha detto prima In Mediante Attraverso i mass media Sì Li ho visti Sia per televisione Che Sui giornali Ecco Soprattutto i primi giorni C'erano praticamente Sempre Ecco di continuo Quindi non lo vedi Per la prima volta in Rimini In pratica No La prima volta Lo vedi La sera stessa Siccome Non abbiamo Non abbiamo Non siamo in possesso Di questo identikit Che fu Ce n'è uno Agli atti Non sappiamo Se è di convertino O Non sappiamo Se è di convertino Uno agli atti Anche del tribunale Della corte Abbiamo un altro Possiamo Visto che è in possesso Delle patte Se possiamo Non è molto utile Perché dice Che non si dicono Comunque Facciamoglielo vedere Se è quello Che sia quello Ecco Se è quello Come curiosità storica Lo vogliamo mostrare Perché a me risulta Legato alle dichiarazioni Del signor Santini Ecco va bene Sì ma quello sarà Perché quello è convertino C'è stato dato Quello di convertino Ma non quello Di fatto Non ha detto nulla Non ha detto nulla Cosa che non Fu questo Non mi ricordo bene Ma direi di sì No perché abbiamo Quest'altro O questo O questo I due feriti Hanno fatto queste Non ricorda Se lei Non ricordo Perfettamente Direi più questo qui Ecco però Più questo qui C'è quello Con incertezza Sempre Del pubblico ministero E non della corte Che verrà Naturalmente Prodotto in corso Signor Santini L'ultima domanda L'ultimissimo Allora lei Ebbene In modo di vederlo Come è disegnato Senza occhiali Sì Non altro Solo l'acquisizione Eventuale Di quello L'altro che fa le fotocopie Quindi le acquisiamo Sì sì Grazie Posso presidente Perché è anche test Della parte civile In relazione A quelli Dentikit Ci sono dei particolari Che comunque Ricordano Il rapinatore Lasciando stare adesso Fabio Savi Perché questa Fu una domanda Già posta Al test Nella fase Delle indagini Alla quale il test Ha risposto Quindi guardando Quell'identikit Che cosa salverebbe Di quella immagine Se lo vuoi vedere Sì Se me lo fa Sì Presidente C'è opposizione Non può esprimere Sono delle Sono delle No no Cioè chiedo Quali sono I tratti somatici Che ancora oggi Confermerebbe Ecco In relazione A quell'identikit Se ne confermerebbe Se no Niente Ma ha risposto Su questo Ha già visto Quindi Penso che abbia risposto Su questo Quindi Mi sembra Ci sono Da quella Visione Di questo Disegno Ci sono Degli elementi Nei quali Lei riconosce Le sue indicazioni Le sue descrizioni E quali sono? Ma Secondo me È proprio Un problema Diciamo Dell'immagine Vista nel complesso Cioè non rende Esattamente Quello che Quello che io Quello che io Avevo in testa È proprio una questione Di espressione Anche E nello stesso tempo Forse anche Nei tratti del voto Ecco La faccia Diciamo Del rapinatore Di quello che mi ha ferito È Diciamo Anche più Più squadrata Ecco Rispetto a questa A questa persona È proprio Una questione Di complesso Ecco Un'ultima domanda Presidente Alla richiesta Cumpà Cosa devo fare Qui non le cose Non vanno avanti Ci fu una risposta Che il test Ha già riferito Presidente Ci si oppone Già risposto Su questa è tardiva Ma se non ha posto Ancora la domanda Scusi Faccia pure la domanda Sulla 100 Ha già risposto Sì Ha già risposto Ci fu una risposta Fai quello che devi fare Esatto Il test Riuscì a percepire In questa risposta Una cadenza Un accento Ma già detto Già risposto Sulla risposta Sì sì Già risposto Già risposto Ci sono domande Nessuna Si può accomodare Grazie Buongiorno Come si chiama? Convertino Angelo Pubblico Ministero Rivorate le domande Signor Convertino Buongiorno Buongiorno Marzo del 94 Lei che lavoro faceva? Idraulico Idraulico Il 3 marzo Di quell'anno Del 1994 Nel pomeriggio Intorno alle ore 17 Lei stava svolgendo Un lavoro Presso Un'abitazione Di via La famiglia Tarossi Perversi Di via Di via Bensissa Numero 1 Questa famiglia L'abitazione di questa famiglia Era vicino Alla banca Era sopra la banca Sopra la banca cooperativa Al quarto piano Invece la banca Era piano terra Dove c'è la banca cooperativa Di Imola Lei a un certo punto Ebbe necessità Di scendere Presso il suo furgone Per Far qualcosa Per prendere Un attrezzo Il trapano Per prendere un trapano Che cosa successe? Allora Io Andai dalla parte destra Del mio cammincino Che c'è lo scorrevole Per levare il trapano Sì L'ho presi Chiusi Che feci anche un botto Perché chiudendo Si fa anche il botto Sì Mi ricordai che sotto Il sedile di guida Mi mancava un'altra cosa Che ne avevo bisogno sopra Feci il giro del camion Come misi le chiavi Per entrare Nello sportello di guida Sentii tre botti Sì All'inizio sembravano petardi Cioè Dei botti un po' Forti Mi girai E vidi una persona Che si girò anche lui Nello stesso momento E mi puntò un'arma In primo momento Da che distanza? Sui 9-10 metri Non di più Le puntò l'arma Mi puntò l'arma E In primo momento Rimangi un po' lì Un po' dopo Mi accorsi che Veramente non scherzava Mi piegai Nel piegarmi Mi sentii un piccolo forotto Nel fianco Una Punta l'arma Verso di lei Sì Lei percepisce Questa situazione Di pericolo Sì E si piega Lui Non tirò subito Ecco Esitò un attimo Esitò un attimo E lei Si piegò Sì Perché si piegò? Perché Mi accorsi che veramente L'arma era vera Cioè Mi poteva colpire Cioè Secondo me Diceva sul serio Non è che scherzassi Quindi pressoché in contemporanea Con l'esplosione del colpo Lei si abbassò Sì In quell'attimo lì Se fosse rimasto a busto eretto Dove sarebbe stato colpito? In pieno Piena pancia Cioè Dal movimento che ho fatto Mi sono reso conto Che proprio era piena pancia Lei cade a terra Dopo essere Cade a terra Ma non so Se fu il colpo O se fu la spinta Che mi diede io Comunque cade a terra Cade a terra Si rende conto Che è ferito Ha davanti un uomo armato Che già le ha sparato Contro una volta Che cosa fa? Allora La mia prima preoccupazione È stata quella Di alzarmi subito Immediatamente E a guardare Attraverso il vetro Di una macchina Perché io caddi Attraverso Cioè in mezzo Tra il mio camioncino E una macchina Che poi il Maggiolone Una macchina Decapitabile Io guardai Attraverso i vetri Di questa macchina Lui cosa faceva? Allora lui Finito di spararmi Il primo colpo Andò verso Cioè passò di fianco Alla Maggiolone Che io Gli ero caduto di fianco Però ero già E già eretto E lo stavo guardando La veniva a cercare? No Io avevo Ebbe l'impressione Che lui stava andando via Perché davanti alla macchina C'era un buco Ho capito Di una seppia Che lui doveva passare E poi che cosa fece questa persona? Allora questa persona Io vedi che lui Quando Infilò il buco con la testa Per andarsene Tornò indietro Fece marsi indietro E venne a vedere Dove sono caduto io In mezzo alle due macchine Io non c'ero più Giri per uno Non il giro intero Lui a destra Io a sinistra Io a sinistra Io a destra Quindi la stava cercando In quel momento Lui sapeva che io ero lì Lui mi stava cercando La stava cercando In questo contesto Il rapinatore Esplode altri colpi D'arma da fuoco? Quando abbiamo fatto Due volte Questo giochino Lui si è messo Davanti alla macchina Preciso Davanti al Maggiolone E appunto L'arma contro il vetro Contro Al parabrezza Io ero proprio dietro La che guardavo Dal di dietro Cosa faceva lui E senti i due colpi Vidi il vetro Andare in frantumi A quel punto Lui si girò E se ne andò veramente Ma lei era Nei pressi del vetro Che andò in frantumi? Era davanti il vetro Esatto Io ero dietro Io ero dietro Dietro la macchina Dove è andata in frantumi Perfetto Era in direzione Anche se non venne Colpito Comunque Tirò verso di lei In direzione Preciso Senta Poi lei venne ricoverato? Venne ricoverato In ospedale? Sì Dopo Arrivò la polizia Mi portarono Pronto soccorso Al maggiore Al maggiore Venne operato? No 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 Solo medicato Solo medicato Mi fecero le punture Antiteccaniche Antiteccaniche Operate Cioè Medicato Perché fu una ferita Trapassante? Passante Dentro e fuori Senta Lei ebbe modo Di vedere Questo rapinatore? Sì Quanto era alto? Era alto 180 Era alto Un 80 Robusto? Robusto Aveva baffi? Per me aveva barba Non proprio baffi Ma barba Intesa come Barba incolta Barba non fatta Oppure La classica barba Diciamo ornamentale Del volto? Non lunghissima Ma neanche corta Cioè Non barba Da un giorno Barba diversi giorni Lei Si impaurì Naturalmente Quando ricevette Il primo colpo Addosso Sì Quindi seguì Questa persona E riuscì a focalizzare In maniera precisa Le caratteristiche del volto Perché la sua ricostruzione È molto sintetica Sul punto Non esattamente Non altra domanda Grazie Avvocato Tuffariello Parte Civile Signor Convertino Quanto tempo È rimasto Assente dal lavoro Intanto Che lavoro Che attività svolge Piedo scusa Io faccio l'idraulico L'idraulico Ecco Per quanto tempo Non ha potuto lavorare 15 giorni Circa 15 giorni Senta Torniamo un attimo Al momento In cui Lei riesce A sottrarsi Ai colpi Del rapinatore Poi che cosa è accaduto Lei l'ha visto fuggire Il rapinatore Sì Cioè fuggire Infilò il buco Famoso Che c'era una siepe Poi non l'ha più visto Non l'ha più visto Senta Cosa ha fatto Subito dopo È andato all'ospedale Si è fermato lì Ha chiamato la polizia Che cosa ha fatto Beh una volta Cioè Quando ho visto Che lui è andato via Io ho cominciato a correre All'esatto contrario Di dove dovevo andare dentro Cioè C'era la porta centrale Dove dove dovevo salire E mi accorsi Che andava a finire In un vincolo chiuso Che Non sapevo dove scappare Ecco Mi vedevo lui arrivare Da un momento all'altro Sì Invece poi Non fu così Allora cosa feci Tornai indietro Spiai nel spigolo Del palazzo Che dava sul piazzale Dove era successo Trasperatorio Non c'era ancora nessuno Anima viva Mi misi a correre E infilai subito la porta E andai sul quarto piano Quindi tornò dalla signora Tornai dalla signora Che mi aspettava Perché Mi aspettava lì Sull'atrio Perché l'aspettava La signora sull'atrio? Perché lei aveva Intravisto Cioè aveva visto L'ultima parte Della rapina Della rapina Senta Quando è sceso? Quando è andato via? Ecco io scesi solo Quando vidi giù Perché andai in terassa E quando vidi giù I carabinieri I puliziotti E un po' di gente Allora a quel punto Andai giù E poi si fermò giù Si fermò vicino a Santini Segui operazioni Andò subito all'ospedale Se vuoi raccontare alla corte? No Andai giù Insieme alla signora Ci avvicinammo a un agente E gli dicimo che Io ero ferito A questo punto Mentre la signora diceva Che io ero ferito Io mi girai E vidi Santini In mezzo alle due porte E lo conosceva Santini? No Non lo conoscevo Quindi vide una persona In mezzo alle due porte Era in lago di sangue Cioè c'era sangue E lui era rannicchiato Allora mi rivolsi Verso la gente Che stava parlando Con la signora E gli dissi Beh cosa ha fatto Quello ha messo peggio di lei Ma in quel momento La polizia stava già Operando I rilievi Erano già La polizia Mi sembra che aspettassero La scientifica Che Poi a un certo momento Facevano Con il gessetto Tutti i disegnini Dei proiettili Di Santini Tutti i contorni Del corpo Come era messo Come era messo Santini Lei riesce a calcolare Quanto tempo È intercorso Fra La fine dell'azione Criminale Diciamo E i soccorsi prestati A Santini E anche a lei Allora Premetto che L'ambulanza era in strada Porta aperte Però Santini Continua a rimanerla in terra E si è trattato Circa di una mezz'oretta Buona buona E lei come andò poi In ospedale Io ci arrivai Tramite due agenti In borghese Che mi caricarono Soprano uno E mi portarono di là Leggermente Prima di Santini Mi sembra Di aver capito Quando siamo andati Da di là Quindi lei è andato via Prima di Santini Senta Poi lei È stato medicato Ed è stato rimandato a casa No Sono stato medicato E poi quei due signori Che mi hanno portato di là Mi aspettavano Che mi devono portare in questura Per deporre L'accaduto Ecco Allora quindi Ha rilasciato le sue dichiarazioni Alla questura La sera stessa La sera stessa Esatto Ci può dire l'orario Più o meno Di preciso Non lo so dire Perché sono rimasto Le sette Le otto Le nove Sì Un'ora e mezza sicura Appunto ci ha corso Ecco Che cosa accadde In questura Mentre lei stava Facendo la sua deposizione Come si comportarono In questura Che cosa fece Andò alla scientifica Fece un identikit Se vuole raccontare Alla corte Anche questa fase Allora Io feci la deposizione C'era un operatore Al computer Che scriveva Quello che in realtà Dicevo io Poi me lo fece firmare Arrivò Altri due Agenti Che avevano bisogno Dell'operatore Per andare a fare Per andare a fare Una determinata cosa Quindi cercavano Anche Un registratore Si erano muniti Di diverse cose Per fare una determinata cosa Che poi non ho capito Cos'era Non ha capito No In un momento no A un certo momento Io finisco la mia deposizione Mi mandano Mi mandano Secondo piano Per fare Un identikit E vedere delle foto Cosa che le foto Non le ho mai visto Perché mancavano le chiavi Dell'archivio Allora Identikit Andò per il lungo Per il fatto che Mancavano le chiavi Le chiavi E operatore Per fare identikit E non so dove fosse andato Insomma Non c'erano queste chiavi Allora Restai Molto tempo in attesa E rimasi nel corridoio Alla costura A un certo momento Vennero due agenti E si misero a parlare Di dove Erano andati Quegli altri tre Ma io Ero a pochi metri Cioè non è che Potessi capire bene Quello che dicessero A un certo momento Si avvicina Un'altra persona E E dicevano Nel frattempo C'era un altro agente Molto giovane Quando si è avvicinato lui Dicevano Voglio vedere io stavolta Cos'ha da dire Per discolparsi Voglio vedere Cosa dice insomma Allora questa persona giovane Gli disse Ma chi è Perché chi è La fermo un attimo Prima che lei Vada avanti Nel Questo racconto Quando lei assiste A questo colloquio Capisce che parlano Di un'altra vicenda O parlano della vostra vicenda Della sua vicenda Ma io Siccome che ero lì Per la mia vicenda Mi sembrò che parlassero Per la mia Le persone che lei ha citato Sono i tre Di cui il verbalizzante Il verbalizzante Avevano appena verbalizzato lei Sì E altri due E altri due Ma quelli erano già andati via E poi erano Quelli che parlavano Erano altri due ancora Lungo il corridoio Quindi non è il verbalizzante No 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 Ho capito perfettamente E poi dopo Che cosa dissero Allora quando si avvicinò Con la persona Che gli domandò Ma chi è Chi è Allora dice E' uno dell'arma Ecco lei Allora a quel punto Cominciai a ragionare A collegare Chiedo scusa alla corte Questa lunga descrizione Era per sentire Però non potendo Far esprimere giudizi Dovevo arrivare Con i fatti Alla testimonianza Per chiedere al test Se in quel momento Capì che Gli appartenenti Alle forze dell'ordine Avessero quantomeno Dei forti sospetti Su una persona Vabbè con questo Poi ci arrivi Capiamo poi dopo Era soltanto Per chiedere questo Quindi in quel momento Lei che cosa pensò Che cosa sentì Io dicendo arma Intendo l'arma dei carabinieri Certamente Allora Mi venne spontanea così Fatti ho sempre creduto Che fosse un carabiniere Vabbè Va bene così Non ho altre domande Grazie Ci lascio Presidente Non posso far esprimere Giudizi No giudizi Non c'è bisogno Comunque la domanda Voleva essere questa Se in quel frangente Ebbe la consapevolezza Più che sensazione Che Lui ha risposto Che parlassero Possero molto vicini A una verità Che si è rivelata Poi Effettiva Ecco anche se poi C'è questa Vabbè Questo poi Valuteremo Lui ci ha detto Quello che ha sentito Qualcuno che parlava Di un ipotetico Responsabile Sì ma Io Adesso Ripongo la domanda Per non dire Le mie conclusioni Di che cosa Parlavano Parlavano Io senti Solo che Dicevano Voglio vedere Stavolta Cos'ha da dire Cos'ha da Ma lei questi due Li aveva visti prima Due agenti che parlavano No le ho visti nel corridoio Cioè lei vede due agenti Che parlano nel corridoio Che dicono tra di loro Ecco questo Li vede per la prima volta Questi due agenti Dicono per conto loro Senza fare nessun esplicito Riferimento a lei O alla sua vicenda E così Parlano per conto loro E non fanno Un esplicito riferimento Né a lei Né alla sua vicenda No Sfortunata di quel giorno Che cosa dicono Se lo puoi dire Io intrapreso solo Quelle due o tre parole lì Intese Intese Solo quelle due o tre parole lì Rimanente Inizialmente Non ci faceva neanche caso Cosa dicessero Perché ero lì nell'angolo D'accordo Avvocato P Scusa Scusa Presidente Io avevo capito però Prima da quando Dalla prima parte Dalla depolizione del test Che Questa seconda Fase Diciamo La ricollegò A una certa fretta Che aveva visto prima No Lui può ripollegare Certo no Lui ci ha raccontato le cose Così come le ha viste Le ha sentite E mi sembra Diciamo così Ora possiamo però fare Un'altra domanda A chiarimento Si Si parlava anche Di altri episodi delittuosi Di altre vicende In quel momento In questura In quei corridoi Mi scusi Mi scusi No no Questa domanda No Non è ammessa Ho già risposto con chiarezza Ciò che doveva dire Ciò che ha sentito E udito in maniera E udito in maniera molto corretta Prego Ho caduto picco Difesa Alberto Sala Il Presidente Era solo Pare che parlava Dei verbalizzanti Che erano le persone Di fronte Prima Come Le persone che riferivano Quello che Cioè quello che ascoltò Pare che erano I due verbalizzanti Non erano Pare Non pare Volga la domanda Scusi No Era solo Per dire Prego Senta Ricorda Chi intervenne Per prima Quella sera Oltre all'ambulanza Quale forse Dell'ordine Non ebbe modo Polizia Carabinieri Sicuro Polizia Chi venne per prima Non lo ricorda No Va bene No perché io stavo La sua Senta quindi Poi da quello Che ha detto poco fa Sulla domanda Della collega Di parte civile Sulle identiche Sulle foto Poi non se ne fece niente Cioè passò quel momento Poi non Io le foto Le questure Non le ho mai viste In quel momento Non c'erano le chiavi Abbiamo capito Ma poi non fu più richiamato Per dire Fu richiamato Dal Brigadiere Radogna Brigadiere? Radogna In La casemma Di Ebersaglieri Di Bologna Sì E mi fecero vedere Un sacco di foto Anche lì Infatti io non Non ho riconosciuto Nessuno Senta ma Lei ebbe modo Di vedere in faccia Il rapinatore Prima lei ha detto Che l'ha visto Una diecina di metri Ebbe modo Com'era questo rapinatore Se lo potessi Cioè era Travisato Era volto scoperto Come era messo? Per me aveva i capelli Brizzolati Un personaggio Abbastanza alto E Abbastanza grosso Sì No ho detto Brizzolati Ho capito Ma Dico era travisato Aveva qualche cosa In faccia O era visto scoperto? No non aveva niente Sembrava volto scoperto Volto scoperto Aveva Portava occhiali O era senza Nulla in faccia? Per me era senza occhiali Era senza occhiali Il tipo di arma Ebbe modo di vederla Per un attimo Niente Io le armi Non è che le conosca Però era una pistola Sì Non 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 ci può dire Ce l'hai esperto di armi? No non sono esperto Non Non può dirci nulla Proprio nulla Rispetto all'arma Cioè se era tombura Se era Semi automatica Se era Di chi tipo Non l'ha visto proprio I primi tre colpi Erano Continui Sì Sono stati sparati Molto veloci Rapidamente Rapidamente In rapida esecuzione E anche gli altri due Sul parabrezza Sono stati Invece Cioè il primo è stato un singolo Ma gli altri due Contro di me Sono stati Comunque sul tipo di arma Non ci può dire nulla È una pistola Abbastanza lunga Abbastanza grande La pistola Senta Poco fa Ascoltandola Mi è sembrato di aver sentito Questo da lei Il rapinatore Che lei vide Che li Parò davanti Era Se ho capito bene Altrimenti Impacciato Esitante Ha detto così Sì Si può dire che cosa vuol dire Con questi termini Aveva un'andatura Tipo marionetta Marionetta? Sì Non era Non girava normale Valverzoso Era molto lento Nei movimenti Nei movimenti E un po' Tipo marionetta Era un po' lento E non si è mai piegato Quindi secondo lei Non era un tipo atletico No Era impacciato Da un qualche cosa Nei movimenti Impacciato Nei movimenti Esitante In che senso Vuol dire esitante? Ma Quando mi ha sparato Ha preso Ha preso la mira Tutto lì Ma non è che Per me era molto preciso Va bene La ringrazio Ma lei sarebbe stato In grado di riconoscerlo Se l'avessi visto Allora Se Per me Cioè Da come l'ho visto In televisione Quella persona Che poi suppongo Che sia lui Cioè Fabio Da come lo vede In televisione Non è Cioè Non lo so riconoscere Io non l'ho mai visto Dal vero Però Cioè Come corporatura Sì Come personaggio È quello Come faccia Ho un pochino di dubbi Come faccia Scusi Può ripetere Ho un pochino di dubbi Anche perché L'ho sempre visto Senza barba E quella sera Ce l'aveva Capelli Diversi Da come li ha E Poi Mi ricordo Che aveva anche Un po' di La pelle Era un po' olivastre Va bene Per me può andare Grazie Senta E questo qui L'identikit Che lei Contribuì Sì D'accordo Questo Questo volto Lei riconobbe In questo volto La persona Ammetto Ammetto Che Quell'identikit Lì È completamente Diverso Da quello Che avevo in mente Io Va bene Si può accomodare Grazie Pondare Pondare Di Pondare iencies